Contenta, contenta ovviamente di essere qui, c'eravamo ripromesse di raccontarci soltanto cose belle e ovviamente sono qui per raccontare una cosa, bella in realtà sarebbe veramente limitativo, enorme, immensa, inaspettata, incredibile. Che cosa succede? Eh, ci sposiamo! Ci sposiamo! Ma veramente! Il 13 maggio, lo possiamo dire, no? Il 13 maggio è la data, quindi c'è un anello e c'è stata una proposta. C'è stata una proposta che è stata una proposta inaspettata, ma perché io non me lo sarei mai aspettato dopo scarsi due mesi che in realtà ci frequentavamo ed era comunque chiaramente qualcosa di molto bello, molto profondo, è reale, però io non mi sarei mai aspettato quello che è accaduto quella sera. Difficilmente riescono a farmi delle sorprese. Lui quella sera mi ha davvero sconvolto. Quindi stavate insieme da poco, da pochi mesi? Sì, neanche due mesi. Neanche due mesi? Neanche due mesi. Io lo sapevo subito, nel senso che l'ho capito immediatamente, quindi volevo farlo immediatamente, poi è capitata la serata giusta, il momento giusto.